Good morning a tutti voi! Io sono sempre ad Argentera ma sono sceso per una riunione importante per il nostro soggiorno per anziani e quindi adesso sto risalendo. Questo mi dà l'opportunità di salutare tutti gli anziani che seguono questo Vangelo e questo commento e tutti gli amici e gli ospiti del soggiorno che probabilmente non seguono questo commento ma li saluto e prego per loro e un grazie particolare adesso mi viene in mente a Michelina che mi ha mandato un bel messaggio e anche a mia mamma che è anziana anche lei anche se da figli non si pensa mai che le mamme siano anziane. Allora oggi è la festa di Santa Marta e allora leggiamo un pezzo di questa storia bellissima. Mentre erano in cammino entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse Ecco oggi è la festa di Santa Marta cioè la chiesa ci dice che Marta è santa. Noi spesso abbiamo messo in contraposizione Marta e Maria e io non credo che questa pagina le metta in contraposizione. Non credo che Gesù metta in contraposizione la spiritualità, l'ascolto con il fare perché di fatto lui non ha vissuto così, non è stato così, ha detto e fatto. Marta ci dice che la fede senza le opere è morta, che la fede senza operosità è morta, che la fede se non entra nelle nostre mani è morta, che la fede se non si fa servizio è morta. Ma anche, e questo è l'appunto che Gesù fa a Marta, che la nostra operosità non può divenire affanno. Quando cominciamo a fare delle cose e anche ecclesialmente, pastoralmente ci affagniamo, no? E allora questa cosa qui poi ci distoglie talmente tanto che non sappiamo bene più, lo dico spesso, perché facciamo quello che facciamo. Il nostro fare ha una radice, che è il Vangelo, che non può che essere il nostro rapporto intimo con il Signore. È da lì che prendiamo forza, è da lì che prendiamo energia, ma guai a pensare che la fede sia solo spiritualità, sia solo mettersi in ascolto e non metterci le mani. Santa Marta dacci la forza di fare e di fare però sempre in ascolto del Vangelo. Grazie per l'incontro che ho avuto con le case di riposo, per quello che abbiamo discusso e anche per l'incontro che ho avuto con il Vescovo. E adesso salgo su molto volentieri. Ale! Grazie!